La Vastese si ferma ai 32esimi di Coppa Italia, condannata dal centro del suo ex bomber Umberto Prisco nel giorno in cui il suo, Leonetti, ha le polveri bagnate. E così l'1-0 finale che premia i laziali di Corrado Urbano è deciso da due episodi in sequenza. Nella parte finale di una gara che in avvio, proprio a causa di un episodio, poteva invece indirizzarsi sui binari biancorossi. Paladini lascia fuori Fiore e Napolano, ma dopo due minuti Gazzerro abbatte in area Shiba e per l'arbitro Di Giovanni di Caserta è rigore. Ma dal dischetto della pietra ipnotizza Leonetti, che calcia male e si fa respingere la conclusione dagli 11 metri. Il cazzino scampato del pericolo si riorganizza, Trebelli apre e chiude un triangolo ampio e che premia il suo inserimento coi tempi giusti. La conclusione però è da dimenticare. Che per Leonetti non sia una buona giornata lo si capisce poco più tardi quando D'Alessandro gli serve un pallone da correggere alle spalle di della pietra, ma anche stavolta il centravanti svirgola malamente. Sul fronte opposto è Tomassi a provare la sortita sfondando sulla corsia di destra e cercando l'attraversione su cui però non arriva nessuno. Ancora Cassino con Prisco che gira verso Morelli il cross di Trebelli, miracolo del portiere aragonese che alza in corner la conclusione di testa. I laziali salgono di tono e la vastese fa fatica. Marchegiani prova il diagonale Mancino neutralizzato da Morelli mentre la staffinata di Giampaolo dalla distanza termina a lato non di molto. L'occasione per i parroni di casa arriva a fine prima frazione quando sempre Trebelli lanciato in campo aperto da Darbosi fa respingere la conclusione coi piedi da Morelli. La ripresa regala invece meno spunti. La vastese ci prova col dialogo stretto sull'asse Ridolfi-Sciba-Pagliari ma la sventola del centrocampista bianco-rosso è alta. E così è ancora un episodio a decidere il match nel finale. Stavolta però il Cassino non spreca quanto il destino gli regala. Molinari commette fallo su Marchegiani e per l'arbitro ci sono gli estremi del doppio giallo e della doccia anticipata per il difensore della vastese. Che dunque vede da spettatore quello che accade poco dopo quando Prisco in aria calamita un traversone da destra e infila alle spalle di Morelli il pallone della vittoria laziale. Finisce 1-0 per la vastese eliminata e da oggi è già tempo di campionato. Si parte subito forte con la trasferta di Matelica per cominciare un cammino che dovrà portare qualcosa in più dello scorso anno. Per il Cassino invece al prossimo turno di Coppa Italia ci sarà un'altra abruzzese, il Giulianova. È stata una partita bella, giocata bene da tutte e due le squadre. Nel momento migliore nostro, nel secondo tempo quando abbiamo preso più campo e abbiamo praticamente giocato quasi solo noi, abbiamo preso il gol sulla nostra ingenuità. Prima è arrivata l'espulsione, ma al di là di quello c'è un errore nostro perché la palla doveva essere messa in fallo laterale e basta. Da lì poi siamo andati in inferno etanumerica, abbiamo preso questo gollo stupido, evitabile. Poi abbiamo provato anche in dieci a pareggiarla, è stato bravo anche il loro portiere in qualche circostanza. Però è una partita piacevole, dispiace uscire così. Forse è una partita da pareggio, se fosse finita pari nessuno avrebbe recriminato. Però noi dobbiamo migliorare ancora perché siamo un pochettino troppo leziosi a volte, troppo belli da vedere ma poco concreti a volte. Quindi sotto questo profilo dobbiamo migliorare ancora tanto. Il nostro obiettivo non è quello di vincere il campionato, nel senso di lottare contro tutti, di mettere in difficoltà tutti, giocando a calcio e mettendo anche un po' di cattiveria agonistica che non fa male. Ci sono squadre forti, Cesena, Forlì, Sant'Arcangelo, Matelica, Avezzano, Re Canatesi. Sono squadre fortissime, tutte attrezzate. Un girone anche a 20, quindi ci saranno molti turni infrasettimanali. Noi siamo a posto così e sono contento di quello che ho a disposizione. Ripeto, dobbiamo crescere ancora di condizioni. Questa per noi è la seconda partita vera perché poi di amichevole difficili non ne abbiamo fatte perché purtroppo molti si sono stati rinviati. E quindi era un test per vedere come stiamo di condizione. La condizione è buona, bisogna migliorare sotto qualche punto di vista. Abbiamo fatto, secondo me, una grande partita di sacrificio. Il primo tempo meritevamo sicuramente di passare già in vantaggio perché abbiamo avuto diverse occasioni e non siamo riusciti a sfruttarle. È stato molto bravo, come sempre, quando gioca della pietra. Nei primi minuti a far sì che il risultato rimanesse in equilibrio perché è chiaro che se loro fossero andati in vantaggio sarebbe stato un po' più difficile. Perché sono molto bravi nel palleggio, oggi faceva tantissimo caldo e quindi la squadra che palleggiava di più probabilmente oggi avrebbe speso di meno. In secondo tempo abbiamo sofferto un po' perché non riuscivamo più a tenere la palla, facevamo fatica a salire. Però quello che avevo detto ai ragazzi, vista anche l'emergenza di oggi, le defezioni di oggi, era quello di cercare di rimanere in partita e se capitava qualche occasione di sfruttarla al massimo un po' meglio di quello che era successo nel primo tempo. Così è stato, voglio elogiare i ragazzi per il grande sacrificio che ci hanno messo oggi, lottando su ogni pallone con un caldo incredibile contro una signora squadra che farà un grosso gruppo, una grossa rosa. Non so se avete visto i cambi che hanno fatto, i cambi che hanno fatto erano meglio di quelli che hanno giocato a titolare.